Compleanno importante quest'anno per il Motoclub Bergamo che venerdì sera si riunirà nell'assemblea elettiva per rinnovare i vertici del Consiglio. 90 anni portati benissimo, un compleanno importante e particolare unico, quello che venerdì sera festeggerà il Motoclub Bergamo che non sbagliamo a definire il primo motoclub in Italia, non soltanto per iscritti. Le manifestazioni allestite dal gruppo presieduto da Andrea Gatti sono infatti innumerevoli e vanno dalle riunioni per appassionati alle prove di mondiale per arrivare alla 6 giorni, ovvero il campionato del mondo a squadre di enduro. Tanto quindi da far conoscere il sodalizio bergamasco in tutto il mondo. Il Motoclub Bergamo è nato nel lontano 1919 quando un gruppo di appassionati ciclisti si appassionò alle due ruote ma a motore. E' una cosa sempre importante che viene ricercata anche perché ci coppiano tutto l'anno. Venerdì sera appuntamento speciale per tutti i tesserati del Motoclub Bergamo, infatti in programma l'assemblea elettiva. E' importante perché è elettiva, quindi tutte le cariche decadono e ci saranno le nuove cariche sia per il Consiglio direttivo e in seno al Consiglio direttivo l'elezione del nuovo presidente. Diverse interessanti che spaziano dall'enduro alla minibike le manifestazioni organizzate quest'anno, ma il clou è in programma nel 2010. Grazie alle sezioni, noi siamo 18 sezioni oramai, quest'anno siamo già 1100 soci e grazie a loro, l'impegno loro, l'impegno anche della sede centrale per portare avanti le nuove gare, le nuove manifestazioni che quest'anno saranno pochine anche perché nel 2010 ci aspettano due mondiali e una sei giorni.